Ho fatto un OTS, ho partecipato con Sprite e non è andata per niente bene Oh no, certi ragazzi, io sono Vergens di Kevin Internet e benvenuti in questo nuovo video Dopo finalmente un mese, zero voglia di registrare video, ecco mettiamolo così Però comunque sappiate che come al solito, come ogni anno, arriverà il video sull'Aftermovie del nazionale di Forlì Ma detto questo, comunque io sto continuando a giocare e sto continuando, tra virgolette, a fare anche degli eventi E quindi ecco che ho partecipato al bellissimo OTS di Prato che in realtà per me si è tenuto una settimana fa, il 19 Ho giocato Sprite, vi farò vedere la lista alla fine del video, ci sarà tutta una sezione apposita per la deck profile Ho giocato Sprite con Evil Twin Non è andata bene, per quale motivazione? A parte il fatto che io penso che Sprite abbia una manifesta inferiorità al momento E inoltre la versione con Evil Twin non è nemmeno la migliore al momento Sicuramente la versione migliore è quella con Purely, solo che giustamente io non avevo più recuperato le carte Purely Perché doveva ancora uscire la Rarity Collection Recuperò dalla Rarity 2 Purely, My Friend Purely e Pretty Memory Recupererò quelle carte da lì e potrei provare a testare la versione per eventualmente portarla al nazionale Consideriamo che al momento io non so cosa giocherò al nazionale Perché potrei giocare Flow, potrei giocare una qualsiasi versione di Sprite Così come potrei impazzire totalmente e decidere di giocare questa roba Perché sto recuperando i Paidra Non lo so, insomma, è da vedere Comunque io devo recuperare ancora tutte e tre i Paidra Quindi questo è molto difficile che io riesca a giocarlo Ma vediamo, vediamo Comunque è un mazzo veramente scemo Quindi posso anche letteralmente, penso, giocarlo due giorni prima del nazionale E comunque saperlo giocare al nazionale, penso Per quanto riguarda l'OTS non c'erano troppe persone Eravamo 26, ne roba del genere Comunque poche persone rispetto alla media Solita, che ero abituato a vedere per quanto riguarda gli eventi in Italia Sta avendo un tracollo Almeno a livello di eventi un po' più piccoli Però questo tracollo lo sto notando anche dal punto di vista di eventi un po' più grossi Perché ragazzi, fa pensare il fatto che MS20 sia stata costretta a mettere in regalo Come primo posto Cioè se tu vai ad un evento fatto apposta E arrivi primo, vinci l'accesso al nazionale Ed è una cosa impensabile Tra l'altro mancano ancora 150 posti almeno Fino a inizio settimana Inizio di questa settimana mancavano ancora 150 posti per il nazionale E è follia pura Cioè finivano in una settimana i posti per il nazionale di Yu-Gi-Oh! Italiano Quindi preoccupante come cosa Ecco, mettiamola così Ma a parte questo Ho giocato quindi Sprite in questo evento alla fine piccolino E cosa è successo? È successo che al primo turno ho beccato Labyrinth Contro Labyrinth diciamo che forse anche per un errore mio Non sono riuscito a riuscire a vincere contro Labyrinth In realtà io penso che Sprite abbia difficoltà Enorme difficoltà a giocare contro Labyrinth Se non vedi le carte giuste E hai praticamente perso Io penso che sia così la situazione E quindi non ho potuto vincere Agilmente Mettiamola così Contro Labyrinth Diciamo che sostanzialmente l'errore che dovrei aver fatto Sarebbe quello di aver fatto praticamente la Live Twin Combo Praticamente potevo estendere un attimino la giocata Rischiarmi la Live Twin Combo Per andare a mettere a terra anche Red Carrot E magari non facendo Sunny Snitch Ma mettendo la Link 2 che è Reborn Ademone Più ho chi si kill o Lilla in questo caso In quel caso contro Labyrinth Sarebbe stato utile avere chi si kill a terra Per evocare Lilla nel turno dell'avversario In modo da spaccare una settata nel turno dell'avversario Quindi Anche se Labyrinth le può attivare nel turno in quelle sette Vabbè è un po' particolare come cosa La situazione era un po' particolare Però alla fine ho deciso di fare Sunny Snitch con Red Più se non ricordo male avevo Smashers settata E l'ho comunque persa Non ho visto Ash ragazzi Poco da dire Mi ha fatto Una volta che ti fa Attivo Big welcome e welcome Nello stesso turno Tu una delle due puoi negare L'hai finita la partita praticamente Vabbè Quindi detto questo contro Labyrinth La perdo Poi incrocio Ne vinco due successivamente Al turno tre stavo 2-1 Ne vinco una contro Snake Eye Fire Kings Mi ricordo che aveva Ponix Quindi sicuramente era Snake Eye Fire Kings E ho vinto al turno tre contro Onestamente non mi ricordo che cosa Però mi voglio principalmente concentrare sul turno 4 e sul turno 5 Perché io effettivamente li potevo ancora finire in top cut Poi al turno 4 e al turno 5 il mazzo decide 6 game su 6 No in realtà 5 su 6 di briccarli Vado contro Tenpai al turno 4 Il primo game lo vinco tranquillamente Proprio lui non riesce minimamente a fare entrare combo Tenpai Per oticapparmi Perché avevo troppe cose Che lui non riusciva a sbiancarmi tutte E quindi va bene Non aveva nemmeno Se non sbaglio non aveva nemmeno la terreno Gli ho negato ovviamente i modi per arrivare alla terreno Successivamente cosa succede? Succede che il G2 e il G3 li bricco male Proprio male 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 Roba che tipo al G3 io lo faccio andare primo E fossi andato primo o secondo non sarebbe cambiata la situazione Perché andando secondo mi sono preso Heat Wave E quindi vabbè Ovviamente dopo che mi ha giocato Heat Wave Ho topdeccato la partenza Perché avevo visto tipo tre magie Double cross Sempre messo che ce l'avevo Mi sa che ce l'avevo comunque double cross Perché comunque è forte quanto Tenpai Poi un red a caso No scusate Non red ma Kisikil Frost Pesco lì là ma sotto Heat Wave Diciamo che la situazione è un po' imbarazzante Quindi diciamo che ho perso per sfiga E al turno 5 anch'esso l'ho perso per sfiga Briccate lute 3 l'ho vinta pure una paralosalmente Non so come Fatto so che ad un certo punto in una partita mi sono preso Normal lì là Perma Normal Kisikil Perma Normal lì là Perma E poi vabbè perdo Gli altri le brico Quindi lasciamo stare L'altra la brico Quindi lasciamo proprio stare Quindi il mazzo ragazzi Potenzialmente potrebbe anche reggere Se giocatore è una persona mediamente fortunata Quindi non io Però nemmeno più di tanto in realtà Con Purely la situazione potrebbe migliorare Devo ancora testare con Purely Anche perché non ho la certezza di riuscire a procurarmi le carte Purely in tempo Vediamo che cosa succederà Ma comunque devo dire che tutto sommato Fino al terzo turno non stavo manco andando male E sono in un certo senso felice così Ovviamente ho fatto delle modifiche alla lista Ne sto continuando a fare Comunque io non so se giocherò Tempai o Flow O una versione di sprite con i Purely Quindi a prescindere Sto continuando a migliorare questa lista A cambiare un attimino A vedere che cosa va modificato E che cosa no In Ibilu per esempio Mi hanno deluso profondamente Vediamo se li riconfermerò o meno Detto questo Comunque io vi lascio alla decklist Noi ci vediamo Boh niente non ci vediamo in realtà Perché farò direttamente i saluti finali Durante la decklist Quindi che dire Guardatevi la decklist Scrivetemi qua sotto i vostri pensieri Per quanto riguarda questa lista di sprite Ovviamente la sto modificando Vediamo che cosa ne uscirà Ci vediamo a Forlì Scoprirete lì se starò giocando a sta merda Oppure Altro di un po' più decente Oppure se starò giocando a Pokémon Al nazionale di Yu-Gi-Oh Vi mando la decklist Allora ragazzi ci siamo Adesso vi faccio vedere la lista In realtà considerate Vabbè poi ve lo dirò Ci sono delle carte che ho spostato Dal main deck alla side Per inserire della roba Penso che questa lista sia leggermente Anzi in realtà un po' più forte Rispetto a quella che ho giocato all'evento Allo TS In ogni caso comunque Vi presento la lista Immediatamente Che ho giocato a questo TS Che devo dire Tutto sommato non mi ha deluso A parte per gli ultimi due turni Ma poi lo scoprirete durante il report Vabbè Vi subirete Lo metto qua sotto dai Allora Reparto sprite Trapper di sprite blu Finalmente adesso ce li ho Ultimate Ci sono tutti Americani tra l'altro due Bellissimi Due jet Monored Monocarrot Questo è il repartino sprite Che ho deciso di giocare Solito repartino sprite Che vi ho fatto vedere Nelle scorse liste Più oltre a I tre starter Mono double cross In realtà al torneo Ho giocato La smashers Al momento L'ho tolta Diciamo che in generale Comunque sia toglierla Che metterla Va comunque bene In linea di massima Va bene entrambe Ecco Mettiamola così Per quanto riguarda Reparto live twin Perché ho cambiato engine Ho incominciato a giocare Le live twin Tre pair Di lilla Due Kissy kill Mono Kissy kill Frost Reparto stabilissimo Questa si vede un po' Troppo spesso in mano Però Non ci posso fare niente E poi ho inserito Il due pair Di sunny snitch Penso che basti Tranquillamente così Sono abbastanza partenze Anzi in realtà Molto spesso Mi capitava di vedere Più lilla Più chi si kill In mano Sunny snitch In realtà Ha capitato molto raramente Però Finché vedi Chi si kill Lilla Va benissimo E niente Valendo si potrebbe mettere La terza Ma è da vedere Poi il resto Questo è tutto il reparto engine Ragazzi Tutte le carte giocabili Sono queste qua Parliamo di Dovrebbero essere Una ventina di carte 3 6 9 12 15 18 19 Carte Sono l'engine Quindi la roba per giocare Sono 19 carte Facciamola da parte Perché adesso Andiamo Reparto Staple Roba generica Si possono portare a 20 Ovviamente Mettendo la terza Di sunny snitch E cattando su qualcos'altro Allora Proprio volendo Potrei cattare i due Veiler Adesso vi faccio vedere Cosa potrei cattare Eventualmente Reparto staple 3 ash 3 ghostogre 2 veiler 2 droll Si potrebbero Cattare questi due Veiler Per mettere Una terza sunny snitch E un terzo droll E Boh Ci può stare Comunque Sono fortini Veiler Nulla di che Però Sono Insomma Sono comunque Opzioni valide Secondo me 3 forbidden droplet Per smontare Insieme a due talenti Fortissime Assolutamente Con il 3 pair Di impermanenza Infinita E poi la carta Che per eccellenza In un formato del genere Ti permette di giocare Ovvero Il 3 pair Di cross out Secondo me Ragazzi Non Non puoi giocare Questo mazzo Senza cross out Al momento Non puoi giocare Un mazzo Che gioca Un buon numero Di ht E le subisce Anch'esso Molto Senza cross out Secondo me Ragazzi In un formato del genere Cross out Cold Vanno giocate E Devi vederne Il più possibile Ovviamente Ragazzi Non avevo spazio Per mettere cold E quindi Ho preferito Direttamente Andare dritto Per dritto Con le cross out Se avete spazio Per tutte e due Giocatele Perché Si gioca a gare di ht Bene Io Gioco di tutto Pur di mettertelo in culo Se mi giochi di ht E' un formato nel quale E' un po' così Insomma E' un formato di merda Evito di continuare a Stare a perdere tempo Nell'escrivere questo formato L'unica Nota Tra virgolette Positiva Negativa In questo caso E' che Talent Non viene triggerata La perma E' il 90% Dei casi Quando hai i talent In mano Il tuo avversario Avrà fisso Solo perma Magari tre Ma sono solo perma Quindi non triggerata Talent Ne trust Poi Reparto exadeck Due gigantic sprite Mono sprint Repartino sprite Normale Insomma Che vi ho fatto vedere Nell'arco di questo periodo Repartino evil twin Due lilla Due kissy kill Mono tra volsanni E va bene comunque Poi Link generici Scandalista Nel mondo sotterraneo E spirit of night Che starei pensando Di togliere Nel realtà Voi dite Ma come Ma sei pazzo E si ragazzi Io non sono limitato Dal fatto che L'ho pagata 120 euro Io non l'ho pagata Questa carta Finalmente l'ho svappata Tra l'altro La realtà dei fatti Ragazzi E che in questa lista In questa versione Sei sempre loccato Dai demoni E quindi Little night Non riuscirei mai A voler evocarla Io starei pensando Piuttosto Di togliere lei E mettere un più Semplicissimo Onibimaru Perché il mazzo Fa un po' fatica A going second E Onibimaru Può aiutare a smontare World Sopra ci metti Che ne so Boh Lo usi per fare qualcosa Che ne so Grifone Forte Sto incominciando A sfruttarlo Perché Sto incominciando A vedere Un attimino Le line Per calarlo Perché Sì Nella maggior parte Dei casi Non lo calerai Perché Troverai Contro mazzi Generalmente Link Però Contro roba Tipo Respia È fortissimo Win condition Ovviamente Però A volte Anche contro mazzi Link Può essere interessante Perché Poi Il tuo avversario È limitato Nelle giocate Goddess Perché Sì Goddess È forte E poi Numero 65 Zeus E Typhon Assolutamente Incattabili Sì L'unica cosa Che cambierei Qua al momento Sarebbe Little Night So che Suona Strano dirlo Però Devo essere onesto Little Night Non mi sta Minimamente convincendo In questa versione Del mazzo Ovviamente Poi Per quanto riguarda Altre versioni Con Purely E porcate del genere Ovviamente La situazione È ovviamente Diversa Naturalmente Purely Non ti dà Un lock Varie Quindi Sti cazzi Per quanto riguarda La side Vi faccio subito Vedere in realtà Quello che ho tolto Io ho tolto Veiler Che era Tre Smashers E due Nibiru Cos'è cambiato È cambiato Che Inside c'erano Tre Droplet Che Dato che Nibiru Non mi stanno Troppo convincendo Ho deciso di passare I Nibiru di side E le droplet Di main Quindi ho passato Tre droplet Queste qua Diciamo che Queste qua Sono tre droplet E poi Come Quarta Carta Ho Tolto Smashers Per mettere La terza Ogre Perché prima Ne giocavo due Però Ogre È veramente Un'ottima carta In questo formato E quindi Questa è la roba Che ho inserito Adesso di side Però volendo Si potrebbe Un attimino Ritoccare di nuovo La side Non è il caso Comunque Tre Nibiru Veiler The Smashers Droll Red Diapason Gamma Burst Talent Tutte monocopie È una side Un po' Da rivedere Forse Sinceramente Penserei Al momento Di andare A togliere Probabilmente La talent Anche se Utile per Ibaltare Considerate Che Togliendo La talent Togliendo Il draw Che finirebbe Di main Si libererebbero I due slot Per andare A mettere Veiler A tre E quindi Passerei Eventualmente I veiler Di side Al posto Di queste due Questo andrebbe Di main Al posto Di un veiler E al posto Dell'altro veiler Andrei a metterci La Continua Sunny Snitch Quindi Questi sono i cambi Che farei Poi vediamo Se effettivamente Ne farò Comunque Monocopie varie Insomma Monospolverino Con due lightning E tre ciccone cosmici Un po' troppo Becroat Sì Vero Però ragazzi Cosmico È assolutamente Fortissimo Secondo me Incattabile Mai Lo lascerei qua Storm Spolverino Spolverino Forse lo lascerei pure Storm volendo Si potrebbe togliere Si potrebbe mettere Dentro Dark ruler Dipende un po' Da quello che va Aspettate Devo essere sincero Non Non ho potuto utilizzare Storm Nel torneo Quindi Non lo so Non lo so Va Un attimino Verificata La situazione Effettivamente Monospolverino Treccosmico Potrebbero bastare Per il back Queste potrebbero Diventare Qualcos'altro Qualche power play Qualche Power play Going second Per Alzare Board Facile Non lo so Va visto Insomma È un po' Particolare Come questo Formato In generale Anche la lista Di questo mazzo È molto 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 Particolare Perché ovviamente Si rifà A un formato Che non è Propriamente Simpatico Per lui Comunque in generale Non mi sono Trovato male Con la lista Anzi Tutt'altro Ha deciso Solo di Brick In realtà Di base È molto Basso Perché Ti basta Molto spesso Una sola Carta Per provare A partire Certo Quell'unica Carta Si può Prendere Tranquillamente Un'interruzione Cioè Mono Live Twin Oppure Sunny Snitch Sono una Partenza Di base Però Puoi anche Partire Con Lei Lui Qualsiasi Nome Sprite Da normalare Più Lui Ogget I Starter Che da solo È partenza Cioè Insomma La statistica È a favore Di questo mazzo Poi Ragazzi Che ci devi fare Se decide Per Di Briccare Per Due Turni Consecutivi Non Non so Veramente Che cosa Dire Detto questo Signori Noi Ci vediamo In un prossimo Video Ditemi qua sotto Cosa ne pensate Di questa lista Ciao ragazzi